amici buongiorno ben ritrovati ventunesima puntata di aspettando degni di nota anche oggi entriamo nelle vostre case anche oggi il nostro percorso dedicato ai nostri ragazzi delle due edizioni precedenti voglio subito ricordarvi il nostro indirizzo lo vedete qui nella mia pancetta eccola si illumina la mia pancetta così avrete modo di consigliare conoscenti o familiari o amici che hanno questa passione per il canto e magari chissà che una persona che voi avete consigliato di mandare il video non faccia parte della terza edizione di degni di nota che inizierà i primi di novembre allora continuiamo e cominciamo anche oggi il nostro viaggio a marcorde dei nostri ragazzi partiamo dalla stagione 2018 2019 il nostro gigante buono Mattia del popolo la sua bella voce la sua grande cavalcata avremo tante canzoni da ascoltare di Mattia adesso noi ce lo andiamo a rigustare in questa sua bella interpretazione ci vediamo subito dopo applausi penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa che bello pescare sospesi su di una soffice nubola rosa io come un gentiluomo e tu come sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta ma il mondo da qui sembra solo un tanto una botola segreto tutti vogliono tutto per poi accorgersi noi non faremo poco come l'altra gente questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita i migliori anni della nostra vita stringimi forte che nessuna notte è infinita i migliori anni della nostra vita stringimi forte che nessuna notte è infinita i migliori anni della nostra vita i migliori anni della nostra vita penso che è stupendo restare al buio abbracciati e muti come pugili dopo un incontro come gli ultimi sopravvissuti forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perditi perditi perché tutta quella tristezza in realtà non è mai esistente i migliori anni della nostra vita i migliori anni della nostra vita stringimi forte che nessuna notte è infinita i migliori anni della nostra vita la 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 nostra vita è un'esercizio che nelle prime puntate come già raccontato ci ha fatto un po' diventare matto perché lui cantava solo per lui non gli fregava niente delle camere del pubblico chi lo ascoltava chi lo guardava però la nostra giuria l'ha bacchettato ma lui da ragazzo intelligente ha assorbito queste critiche nel modo positivo e poi dopo le prime esibizioni è andato via con un filo di gas bravo Mattia allora io vi ricordo ancora il nostro indirizzo mi raccomando questo è l'indirizzo per mandare i video per partecipare alla terza edizione di Degni di Nota allora adesso dal 2018-2019 facciamo un saltino di un anno l'ultima edizione conclusasi a febbraio del 2020 adesso parliamo di Erika Barzanti anche di lei nelle puntate precedenti abbiamo detto che era una ragazza frenata da questa sua grande voglia di mettersi in mostra ma questa sua grande timidezza però adesso noi ce l'andiamo a riascoltare perché è sempre bello ascoltare la voce di Erika Barzanti a dopo non cittare nel vento non cittare nel vento non cittare nel vento no No, no, ascoltami, tu per lei sei un giocattolo. No, no, il capriccio di un attimo e per me sei la vita. Se lei ti amasse io, se lei ti amasse io, saprei soffrire ed anche morire pensando a te. Ma non ti ama, no, lei non ti ama, no, ed io non voglio vederti morire, morire per lei. No, 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 non vedere. Non cittare nel vento in un solo momento. Se lei ti amasse io, se lei ti amasse io, saprei soffrire ed anche morire pensando a te, ma non ti ama, no, lei non ti ama, no, ed io non voglio vederti morire, morire per lei. Amici, lei era Erika Barzanti, Erika ti mando un abbraccio, mi raccomando, sempre positiva, il negativo buttalo via, lascialo da parte, che tu sei una ragazza giovane e devi essere positiva. Io voglio ricordare a voi amici che ormai magari l'avrete imparato, che noi tutti i giorni siamo qui sul canale 14, Teleromagna, 14.30, questo aspettando Degni di Nota. Ma tranquilli, perché se perdete la puntata delle 14.30, potete recuperare con quella delle 10.45 al mattino, cioè la famosa replica, mi raccomando. Io vi ricordo ancora una volta il nostro indirizzo per mandare i video, per essere così, provare di essere presenti alla terza edizione di Degni di Nota nel mese di novembre, la partenza è proprio i primi di novembre. Allora, vi dico grazie perché ci dimostrate un grande affetto, sono contentissimo di essere presente nelle vostre case tutti i giorni, da Casa Bergamini, come si dice ultimamente, vi do l'appuntamento per domani, un bacio e un abbraccio, a domani. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.